Saranno i giudici della Corte d'Appello di Venezia ad esprimersi sull'operaio gelese Giacomo Acia lo scorso anno condannato per tentato omicidio a tre anni e quattro mesi di reclusione. Nel 2020, a seguito di rapporti molto tesi con il padre della compagna, lo colpì usando un coltello e il GUP del Tribunale di Venezia in abbreviato ha riconosciuto la provocazione subita ad Acia ma ha comunque confermato la contestazione di tentato omicidio. La richiesta del PM veneziano era di sei anni e quattro mesi. La difesa, sostenuta dall'avvocato Rocco Cutini, ha depositato il ricorso in appello chiedendo ancora una volta di riqualificare la contestazione. Per il legale non si trattò di tentato omicidio perché l'operaio non avrebbe avuto alcuna intenzione di uccidere, si sarebbe solo difeso perché aggredito. A riportare ferite fu un 46enne, padre appunto della compagna dell'imputato. I fatti si verificarono a Mestra in strada. Il ferito venne soccorso e trasportato in ospedale dove fu sottoposto ad un intervento chirurgico alla gelese in primo grado sono state riconosciute le attenuanti. Per la difesa comunque quella decisione va rivista sulla scorta di quanto riportato nel ricorso l'uomo che fu ferito e parte civile nel procedimento con il legale Matteo Giacomazzi. La difesa di Acia insiste proprio sull'assenza di qualsiasi volontà di uccidere, quindi ritiene non fondata l'accusa di tentato omicidio. Anche su questo punto chiederà ai giudici della Corte d'Appello di Venezia di pronunciarsi, anche per arrivare ad una decisione eventualmente meno pesante nei confronti dell'operaio gelese.